Contro piede con Verna, Verna che avanza la palla al piede, ancora il tocco per Van de Putt, Van de Putt dietro, Giasci, il tiro, la respinta, ancora e il gol, il vantaggio del Catanzaro con Sunas, vantaggio del Catanzaro che colpisce alla mezz'ora di questo primo tempo, gol di Sunas, il ribaltamento di fronte è un gol pesantissimo che cambia la storia del match fino a questo momento. Sì, grande azione del Catanzaro, a parte tutto da Verna che veramente ha recuperato palla, poi è partito, ha servito Van de Putt, che tutti si aspettavano di poter mettere una palla dentro per Iemmello che ha tratto i difensori verso la porta, la palla è andata dietro, prima il tiro è ribattuto, poi Sunas ha fredato Donnarumma. Il primo tiro respinto, lo vediamo, quello di Giasci e poi il gol di Sunas, dunque il vantaggio del Catanzaro, 31esimo del primo tempo, gol pesantissimo quello di Sunas che adesso cambia il corso di questa partita. Catanzaro che ha ottenuto quello che voleva, quel gol che cercava per cambiare la storia di questo match, vediamo il lancio.